Esorcizzo te qualsiasi oggetto nobile, esorcizzo te qualsiasi oggetto nobile, nel nome di nostro Signore Gesù Cristo, per intercessione di Maria Vergine del Rosario, dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele e Duriele, per intercessione dei Santi Martiri Volturnensi della Chiesa Universale, per intercessione dei Santi Confessori della Fede, per intercessione delle anime sante del Purgatorio, per intercessione della Vergine del Rosario, oggi 7 ottobre, in cui questa benedizione è stata impartita, affinché voi, oggetti nobili esorcizzati nel nome di nostro Signore Gesù Cristo, «Siate terrore per gli spiriti infernali, ovunque essi si trovino, voi li ricacciate negli abissi senza che possano più nuocere in alcun modo alle nostre famiglie, in alcun modo, né col sangue, né con l'impedimento, né in qualsiasi altro modo. Siate ricacciati negli abissi dagli stessi oggetti esorcizzati, in modo che non possiate più danneggiare il genere umano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen». Esorcito te qualsiasi oggetto ignobile che derivi dagli altari delle tenebre, che sei stato trasportato direttamente nelle famiglie, nelle persone, negli animali, nelle cose dagli spiriti infernali, affinché tu perda qualsiasi emanazione malefica, affinché tuo oggetto ignobile che derivi dagli altari delle tenebre, venga fulminato, venga distrutto, venga polverizzato dal solo sguardo di Maria Vergine, la madre di nostro Signore Gesù Cristo e dalla spada di San Michele Arcangelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Alleluia. Grazie a tutti.